buongiorno e buona giornata ben ritrovati cari amici dal sottoscritto nicola da lucia in questo nuovo video di oggi parliamo di basket italiano coppa italia quarti di finale seconda sfida virtus bologna vs venezia i lagunari venezia si è imposta per un solo punto 82 81 dopo i tempi supplementari al quarantesimo era finita 68 pari andiamo con la cronologia della sfida dove nel primo quarto è stata sempre il vantaggio venezia 21 a 11 nel secondo seppur di poco ancora venezia 37 32 nel terzo 50 47 per venezia e poi nel quarto appunto la parità 68 e nei tempi supplementari appunto i veneziani si sono imposti per un solo punticino 82 a 81 vittoria di venezia quotata dei bookmaker a 3 25 305 3 24 3 35 quindi diciamo bologna che ovviamente insomma molte fatiche dietro come anche la coppa intercontinentale di recente vede sfumare il sogno della possibile coppa italia ed ora venezia quindi andrà ad affrontare le scarpette rosse milano aspetto dalla regia al conte bussi proprio milano ecco qua gara che si giocherà domani bene allora chiudo e ristabilisco il collegamento appunto bologna accade per 81 82 contro venezia ciao a tutti